Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A12 per un incidente code a tratti tra il Bivio per la 11 e Pisa Centro in direzione Livorno. Chiuso fino al 27 ottobre per lavori lo svincolo di connessione della A11 provenendo da Lucca. Sulla FIPILI per lavori ci sono rallentamenti tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest e Ponsacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e Bargino e tra Badesse e Monteriggioni. Sulla regionale due cassi a restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 270. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!